Cari colleghi, mio nome è Claudio Marchetti e sono il Presidente del Departamento di Oral Maxillofascial Surgery alla Università di Bologna, Italia. È un grande piacere invitarvi a te il terzo 3D Bologna International Knitting and Workshop che sarà in Bologna, nel nostro hospital, il 28 e il 29 di marzo 2014. Il nostro obiettivo con questo internazionale è di condividere le esperienze sulle nuove strutture nelle nostre specialità, l'Augmented Reality, la 3D Stereo-Photogrammetria, la navigazione, la 3D CAD CAM custom-made e l'intraoral scanning. Vi speriamo che il 3D Bologna meeting sia un'opportunità utile per tutte le mazillofascial surgery, soprattutto per i trainees e i young surgeons, da tutti i paesi dell'Europa. See you in Bologna next year! Grazie! 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 Grazie!